L'Europa non è lontana, anche se nella rappresentazione è qualcosa di astratto e lontano, invece l'Europa è sempre nei territori. E questo è il messaggio che ha voluto mandare l'onorevole Chiara Gemma, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, membro delle Commissioni per lo Sviluppo Regionale per la Cultura e l'Istruzione a Bruxelles. L'europarlamentare Brindisina ha fatto visita in alcuni comuni della provincia di Lecce, dove ha voluto incontrare le associazioni locali che sono impegnate nel sociale per esprimere il sostegno delle istituzioni europee, la loro vicinanza e sentire i bisogni e le problematiche del paese in un'ottica di dialogo che non è mancato e mai deve mancare, come la stessa ha ricordato. Il mio contatto con le associazioni in particolare che si occupano di disabilità è costante. Essere qui a Taurisano significa testimoniare la vicinanza all'operato di queste associazioni. L'associazionismo è il cuore pulsante di una comunità. Sì, perché consente di dare veramente l'infa ai bisognosi. Oggi più che mai in periodo di pandemia occorre essere vicino a queste famiglie, occorre investire molto sul sociale e la scommessa per il futuro proprio per consentire una vita dignitosa e non lasciare nessuno indietro.